buongiorno a tutti buongiorno a tutti lasciami due caffè, oggi sarò caffè eccoci qui alla pista La Serra di Mariani a Montecchio per un altro sabato d'allenamento allora come sempre il babbo ha da fare però stavolta ha cambiato il Fabio cos'è che hai cambiato? lo spillo ecco lo spillo dalla casa madre mi hanno sbagliato a mettere lo spillo iniziamo con le prove libere ecco il passaggio di Alex carina la console la musica la musica da quando c'è Pippo questi tre dell'Ave Maria non fanno più un tubo guardali, guardali lì no, tutti in pollage no è io che corro su e giù chi butta il nico nel fosso non fanno più con due ragazzi ma la madonna ora visto che abbiamo il salto a concentrarci più sulla linea devi cattarvi molto di qua manca poco così manca un po' di più da gatto un po' di più quando sei lì comincia proprio la prima ecco che ci prepariamo per il giocchino della piramide un po' di più 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 esatto sì ma io mi sa che sono un po' un mostro oggi no è partito? sì sì no è partita la gestazione? sì sì via ciao ragazzi ciao ragazzi c'ero anche io oggi no a parte gli scherzi è stata una giornata fotonica come sempre con gli allenamenti con filo sì stai crescendo tanto stiamo crescendo tutti quanti tanto perché alla fine si cresce tecnicamente di testa e che dire ragazzi iscrivetevi al canale seguiteci su instagram su tiktok nel frattempo stiamo uscendo dal parcheggio e mettiamo anche le cinture e niente ci vediamo al prossimo video ciao